Tutti con il naso all'aria sulla costa marchigiana nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto, quando i cieli di Porto Sant'Elpidio e Porto Recanati sono stati solcati dai colori e dalle acrobazie della pattuglia aerea acrobatica dell'aeronautica militare. Le frecce tricolore, manco a dirlo, hanno incantato il pubblico con esibizioni da togliere il fiato. L'evento di Porto Sant'Elpidio, con le immagini che vi proponiamo, è stato fortemente voluto dal sindaco Nazareno Frenchellucci e dall'assessore ai grandi eventi Patrizia Canzonetta come manifestazione principale per celebrare i 70 anni della città che hanno caratterizzato tutto il 2022.